E noi carissimi amici siamo ancora qui a domandarci ma perché Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati? Argomento ovviamente sempre uomini e donne e in queste ore infatti fuoriesce la verità sul perché del loro addio, una verità che certo da un certo punto di vista fa male, che va anche a ribaltare l'universo dei valori che fino a questo momento sembrava invece accompagnare la coppia. L'annuncio era stato dato da Isabella con un post su Instagram che diceva proprio «Il 6 giugno mi sono separata in maniera legale. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero». Parole queste signori che avevano immediatamente scatenato la reazione di alcuni fan di uomini e donne che alla coppia si erano particolarmente legati. Senza cadere nel buttarsi fango tramite frecciatine. Penso sia la cosa giusta, un abbraccio. A smorzare i toni ci pensa un'altra utente che ha voluto lasciare un commento sulla pagina social ufficiale di Isabella. Ma non è detto che non sia un bravo signore. Evidentemente non erano compatibili. Ad una certa età poi i caratteri non si possono modificare, ognuno ha vissuto a modo suo ed anche questo matrimonio dopo solo pochi mesi può essere stato troppo affrettato. In altri casi non è successo, ma bisogna anche vedere il carattere delle persone e quanto ognuno sia disposto a cedere per l'altro. E ancora, detto ciò, mi dispiace tanto perché erano belli insieme. Chissà, potrebbero anche ripensarci. Mai dire mai! Ora però escono fuori nuovi retroscena sul perché dell'addio della coppia di uomini e donne. Sul web e sui social non mancano le indiscrezioni ma ce n'è una piuttosto pesante. Alcuni utenti, come riportato dal sito Anticipazioni TV, non ci sarebbero andati per il sottile. Scrive Blasting News come Avrebbero evidenziato il fatto che Fabio non sia davvero benestante come ha fatto credere ai tempi della sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi. A tal proposito, quindi, vi è chi ipotizza che il cavaliere possa aver sostanzialmente preso in giro Isabella, illudendola sul suo tenore di vita. Addirittura c'è chi sostiene che Fabio possa aver ringannato la sua ex compagna, puntando a sfruttarla per interessi economici. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.